buonasera buonasera accanto a me l'amico don paolo squizzato ma prima di dirvi qualunque altra cosa data la tematica don paolo ha pensato di farci fare una piccola esperienza di meditazione per metterci così nella giusta atmosfera e lascio a te l'introduzione sì grazie armando si pensava visto che parleremo di meditazione perché non meditare insieme visto che far alla fine è rischioso perché saremo tutti stanchi quindi c'è rischio di addormentarsi facciamo all'inizio ma sono pochissimi minuti solo per creare un momento di ascolto ecco momento di silenzio diventiamo silenziosi per pochi minuti 45 45 poi faremo cinque minuti di incontro e poi ci salutiamo meditare dico soltanto una cosa sulla meditazione ne parleremo stasera in meditazione ma per chi non avesse mai meditato la scuola a cui mi rifaccio e che viene presentata anche nel testo è la scuola di john main un monaco benedettino morto ormai da diversi anni lui ha imparato in estremo oriente a meditare chiede tre cose molto molto semplici che la postura una postura seduta e siamo tutti seduti i piedi ben piantati a terra la spina dorsale dritta ecco non incurvata perché poi diventa difficile anche a respirare la testa che segue la spina dorsale la seconda cosa che viene richiesta è l'immobilità assoluta durante i minuti in cui mediteremo quindi non ci si muove una volta che si assunta la postura e poi la ripetizione di una parola viene chiamata mantra questa parola ma mantra potrebbe essere in italiano giaculatoria cioè una parola che viene ripetuta che serve a a non coltivare i pensieri che arrivano visto che sarebbe troppo lungo adesso dire quale parola suggerisce john main ecco chi medita sa quale parola usare chi usa il mantra altrimenti potrebbe essere anche soltanto così quando si inspira quando si si inspira dirsi mentalmente sto inspirando quando si espira dirsi sto espirando quindi con questo diventa un mantra diventa una parola ripetuta sto ispirando sto espirando questo dirselo con una cadenza che segue ovviamente il respiro aiuta a non coltivare altri pensieri che possono arrivare ci facciamo questo regalo all'inizio del nostro incontro la regia ci manderà un suono di campana visto che non abbiamo una campana fisica ecco una campana che segnerà questi pochi minuti che vivremo insieme ciao Grazie a tutti. 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 Allora, dunque, adesso ve lo presento un po' Don Paolo, oltre a essere un caro amico mio editorino spiritualità. Don Paolo è sacerdote, guida biblica in Terra Santa, è uno dei fondatori della Scuola Diffusa del Silenzio, incardinato nella diocesi di Pinerolo, dove si occupa il responsabile dell'ufficio del dialogo interreligioso. E soprattutto Don Paolo, e soprattutto Don Paolo scrive. Don Paolo, a Don Paolo piace dire mettersi sulle spalle dei giganti, per cui se avete letto i suoi libri sapete bene che spesso trovate delle indicazioni di altre letture. E' molto feconde da questo punto da queste figure, è molto feconde da questo punto di vista, perché è molto interessante avere questo ventaglio di ulteriori possibilità. Per cui una volta chiuso i libri di Don Paolo, in realtà il libro non è chiuso, ma apre ancora tanti altri orizzonti. E allora, siccome appunto Don Paolo ha questa dimestichezza, anche questo amore nei confronti di altre fonti, non soltanto fonti sacre, ma spesso anche fonti letterarie, gli ho proposto di impostare questo incontro seguendo la scansione di una frase di Franz Kafka. Io dubito che Franz Kafka fosse un meditatore, anche perché affondava in tutt'altra tradizione, affondava nell'ebraismo, sebbene poi ci sia un libro di Kafka che si chiama Meditazione, che però sono una ventina di racconti, Meditazione più inteso come riflessione. Ma a volte in Kafka accadono delle cose che non sono così lontane da ciò di cui noi stiamo parlando. In alcuni racconti, per esempio, di Kafka, il dualismo, la separazione tra noi e il mondo si attenua moltissimo. In questi racconti, compresi in questa raccolta Meditazione, spesso accade, ci sono dei momenti in cui sembra quasi che ci sia una fusione, un perdere i propri contorni e diventare anche parte di qualcos'altro, annullare la propria unità in virtù di qualcosa di molto più esteso, di molto più pulsante. Ma poi c'è un piccolo libro, quello al cui ci ispiriamo, che è questo, Aforismi di Jurao, che è un libro postumo. Sono 109 aforismi che furono raccolti da un amico di Kafka vent'anni dopo la morte di Kafka. Aforismi di Jurao, perché è un piccolo borgo in Bohemia, dove Kafka, quando gli diagnosticarono la tubercolosi, andò a casa della sorella, appunto lì a passare del tempo che lui ricorda come il momento più bello della sua vita, pur avendo consapevolezza della malattia, però riuscì a trasformare questa consapevolezza in una ricchezza, in una qualche forma di ricchezza interiore. E all'interno di questi aforismi ce n'è uno che sembra una freccia puntata verso il centro di se stessi, e sembra percorrere delle tappe che sono necessarie per chi vuole fare questo pellegrinaggio dentro di sé che la meditazione rappresenta. Adesso io ve lo leggo, sono poche frasi, ma poi proveremo a percorrerlo con maggiore attenzione. E questo aforisma dice Non è necessario che tu esca di casa, rimani al tuo tavolo e ascolta. Non ascoltare neppure, aspetta soltanto. Non aspettare neppure, resta in perfetto silenzio e solitudine. Il mondo ti si offrirà per essere smascherato, non ne può fare a meno. Estasiato si torcerà davanti a te. Le parti che compongono questo aforisma mi sembra siano delle ottime soglie di accesso ai temi che affronterà Paolo con noi. E quindi ve li riportiamo, se riesco a metterlo. Chiedo alla regia allora di mandarmi la prima. Non è necessario che tu esca di casa, ecco così inizia questo aforisma. E io credo Paolo che ci sia già tanta ricchezza in queste parole e che tu possa commentarle con una certa aderenza al tuo libro. Beh innanzitutto grazie Armando di aver scelto Kafka come incipite, ecco come inizio del nostro dialogo. Perché penso che se ridirsi di un gigante, ecco come si diceva prima, ci porti subito ad altezze molto molto alte per guardare lontano appunto. Apro il libro, nell'esergo del libro di cui stiamo trattando, se non lo cerchi lo trovi, però voi lo trovate magari lì fuori e in vendita, quindi se non lo cerchi lo trovi è una frase del grande mistico tedesco Meister Eckhart, in riferimento a Dio, è sottinteso. In esergo appunto ho posto una citazione di Blaise Pascal, che l'ho trovata geniale, è uno dei pensieri di Pascal. Ve lo leggo, tutti i mali degli uomini nascono da una cosa sola, dal non sapere essi restare tranquilli in meditazione, in una camera. E credo che qui ci sia già tanta ricchezza, ecco. Non è necessario che tu esca. A volte pensiamo che per una vita spirituale sia necessario viaggiare tanto. È importante viaggiare, è importante conoscere ovviamente, è importante... John Mayne ha imparato a meditare casualmente, in realtà era andato in Malesia per lavoro, ecco, poi lei ha conosciuto un guru e si è messo alla sua scuola, ma... Però l'idea nostra in Occidente è che più esperienze si fanno, meglio è. Le esperienze non sempre è così, anzi quasi mai è così. A lungo andare nella vita le esperienze stordiscono. Le esperienze possono essere utili a livello, quando si è adolescenti, no, le tante... Accumulare esperienze. Questa è una cifra che si riscontra molto oggi, anche in tanti adulti, anche nella vita spirituale. Far accumulare esperienze, ma le esperienze stordiscono. Io credo che sia necessario a un certo punto fare il viaggio più importante della vita. Quello che Martin Buber chiama e dice essere il viaggio più complicato della vita, più difficile. Cioè il viaggio verso se stessi. Non c'è viaggio più impegnativo di questo. Entrare dentro di sé, nella propria casa interiore. Ecco, arriverà il momento, o meglio, è auspicabile che arrivi il momento in cui scopriremo finalmente che non sono le esperienze ad arricchirci, ma la qualità della vita che viviamo. Cioè la profondità, la profondità. Vivere una vita spirituale, secondo me, significa navigare in acque profonde. Qualcuno ha detto che si annega in superficie, non in profondità. E io credo che in Occidente veramente noi stiamo annegando in superficie, per troppa superficialità. In superficie c'è la schiuma, c'è tanta schiuma, c'è vivacità, ma non è la vita. Stiamo confondendo la vivacità con la vita, ma quella non è vita. E qui credo che la meditazione veramente aiuti a vivere in acque profonde, a navigare in acque profonde. D'altra parte è negli oceani che c'è la vita più bella, i colori più intensi, nelle profondità. Anche dove è più oscuro l'oceano in profondità. Ma noi abbiamo paura del buio, abbiamo paura dell'oscurità, abbiamo paura di... Perché se si sta in casa, ma soprattutto la casa interiore, beh, viene a conoscenza anche di tutte le tue zone d'ombra, no? Dai un nome ai tuoi mostri interiore. E questa cosa qui... Pensiamo soltanto a cosa è successo durante il lockdown, quando eravamo obbligati a stare in casa, quanta difficoltà si è fatta. Perché non siamo abituati, non ci stiamo, facciamo... Però Pascal, lì hanno origine tutti i mali, nel non sapere stare nella propria casa. Nel libro cito Pablo Dors, un nostro comune amico, un genio della vita spirituale, ecco, spero che lo conosciate in tanti, ecco, Pablo Dors. Dors scrive, cita un padre del deserto, questi primi uomini, donne spirituali incredibili dell'inizio del cristianesimo, cita questo padre il quale scrive la cella, la casa, la propria stanza interiore, possiamo dire, la cella è per il monaco il paradiso, la cella è l'ambiente per l'esichia, esichia significa letteralmente pace del cuore, la pace del cuore, la calma, la tranquillità. Ecco, la cella è l'ambiente per l'esichia, come i pesci muoiono se restano sulla terra secca, così i monaci che si attardano fuori dalla cella o si trattengono con la gente perdono la forza necessaria a questa pace. Come dunque il pesce al mare, così noi dobbiamo correre alla cella perché non accada che, attardandoci fuori, dimentichiamo di costudire il di dentro. Ecco, io credo che ci siamo attardati troppo fuori casa. Abbiamo perso la strada per tornare a casa e le conseguenze le vediamo dappertutto. Basta girarci intorno. Non sappiamo neanche più chi siamo perché il nome ci viene dato dal di dentro. Noi siamo così attenti al nome che ci danno gli altri che abbiamo perso il nostro nome autentico, che soltanto dentro possiamo scoprire chi siamo. Il nostro nome ce lo diamo e la nostra interiorità che ce lo dona, non gli altri. Ecco, abbiamo perso la strada di casa, quindi questo aforisma di Kafka è geniale come inizia. E cito ancora un Agostino. Io ho sempre un atteggiamento, ho un rapporto molto difficile con Agostino. A volte mi arrabbio, ma a volte sono contento di quello che ha scritto perché è stato anche un genio, ovviamente, per molte cose. Ecco, però questa frase, ve la cito in latino perché lui scrive in latino e rende molto di più. No li fora seire, in te ipsum redi, in interiore omine abitat veritas. Non andare fuori di te, ritorna al centro di te, in interiore omine abitat veritas. È all'interno dell'essere umano che abita la verità. non andare fuori di te. Ecco, la meditazione è un momento che noi ci prendiamo per tornare al centro di noi stessi. Ma non soltanto qualcosa di fisico, ma il centro vuol dire in contatto col nostro sé autentico, con la nostra verità profonda, perché la nostra verità, la nostra verità, l'essenza dell'umano, non sta nella nostra carta d'identità, non sta nel nome, non sta nella professione, non sta in tutto quello che vediamo, che costatiamo. C'è qualcosa di molto più profondo. Allora, stare in casa, stare nella propria casa, nella propria cella interiore, vuol dire entrare in contatto col nostro sé autentico, il nostro sé autentico, il vero sé, il ciò della tradizione indiana, l'essenza, l'essenza. Ecco, credo che si possa dire questo come inizio. E sicuramente poi conta molto il modo in cui tu stai quando sei in casa. Tu per esempio hai citato l'epoca del Covid, sicuramente quella non era un epo, non era stato un momento in cui lo stare in casa in maniera naturale si sposasse con la capacità di stare al centro di se stessi, perché per molti di noi anche in quell'occasione, anzi le ansie, le angosce, i pensieri erano un tale brusio di fondo, anzi ben più che di fondo, nella testa, che non era il modo giusto di stare in casa. E anche rispetto a questo Kafka ha ancora qualcosa da dirci, perché la frase con cui continua il suo aforisma, ecco, non è necessario che tu esca di casa, entra già più nel vivo di quale sarebbe la modalità per chi vuole fare un viaggio in se stesso, come diceva Paolo. Rimani al tuo tavolo e ascolta. Mi sembra, Paolo, che qua le parole essenziali siano due, il fatto del, due verbi, il fatto del rimanere e il fatto dell'ascoltare, che credo siano insomma due ingredienti essenziali nel cammino di chi vuole approcciarsi a una meditazione silenziosa. Sì, mi viene in mente adesso una donna straordinaria, Etti Hillesum, lei nel suo diario scrive che il posto più bello del mondo è la sua scrivania, il suo tavolo di lavoro. Questa donna che ha girato anche dice il posto più bello che abbia visto è la mia scrivania. Ecco, lì c'è il mondo, ecco, stare al tavolo. Ecco, rimani al tavolo, rimani al tavolo. Con un verbo caro, la tradizione spirituale, potremmo parlare di stare, stare. Ecco, io credo che la meditazione e su questo insisto molto nel libro, la meditazione ci insegna a stare, a stare. E per noi, guardate, è difficilissimo stare. Prima avevamo fatto, vi ho chiesto, vi ho chiesto, John Mayne chiede, una volta che si assume la postura di stare immobili, stare, non muoversi. Ovviamente non è fine a se stesso, ha tutta una pedagogia questo, ecco, ma imparare a stare, cosa vuol dire imparare a stare? Imparare. La meditazione ci insegna a stare con ciò che è. Con ciò che è. E quindi credo che qui veramente siamo al centro non solo della meditazione, ma proprio della vita spirituale. Stare e accogliere, ascolta, accogli, ascolta, accogli quello che è. Guardate, è importante questo, è importante, perché noi non siamo educati a stare con ciò che è. Rilke, altro grande autore, amato, dice nella lettera a un giovane poeta la vita ha sempre ragione. Perché dobbiamo stare con ciò che è? Perché la vita ha sempre ragione. cosa vuol dire stare con ciò che è? Accogli, accogli, non accetta, Chandra Candiani lavora molto sulla differenza tra accettare e accogliere. Accogli ciò che la vita ti fa vivere in questo momento. Cioè, imparare a stare con ciò che è, impara ad accogliere, stai, vivi in profondità fino in fondo quello che ti accade, ciò che succede. tutto, ma proprio tutto. Anche quello che noi reputiamo tragedia, anche quello che noi reputiamo danno, anche quello che noi reputiamo imprevisto, anche quello che per noi è malattia, anche quello che è per noi male. Stai, vivi. Il problema nostro qual è? Il problema nostro è che non siamo stati mai educati a stare con ciò che è e quindi ci mettiamo sempre di traverso alla vita perché pensiamo noi come dovrebbe andare la vita, cosa sarebbe dovuto accadere, cosa dovrebbe accadere. Capite? Tutto questo mentale che si sovrappone a ciò che è è quello che ci provoca tantissima sofferenza. Guardate, ciò che ci provoca sofferenza non è quello che ci capita nella vita, è il commento che ne facciamo. Non doveva essere così, è sbagliato, non è bene, non doveva succedere. Tutto questo commento, possiamo chiamarlo giudizio, però giudizio ha già una valenza morale nel cristianesimo soprattutto. Ma ecco, non commentare, non appiccicare etichette a ciò che accade, stai con quello che è, poteva andare, poteva, ma è successo quello che è successo. Quindi, ecco, io credo che sia importante questo. Vi leggo, appunto, come diceva Armando, mi servo anche di personaggi da cui ho imparato tanto, imparo tanto, ecco. e quindi cito la domanda di fondo quell'esistenziale è con quale cuore, con quale postura stiamo al mondo. Gesù invita a farlo con cuore puro. Pensate Gesù quando dice beati puri di cuore. Il Buddha invita a farlo avendo trasceso ogni dubbio, ossia liberi dalle reti dell'io, del mio. Quindi, imparare a stare vuol dire vivere ciò che capita, ciò che ci capita, quello che mi capita, liberi dalla rete dell'io e del mio. Perché noi abbiamo assunto l'io e il mio come criterio di giudizio su tutto. Su tutto. Allora, tutte le tradizioni spirituali ci invitano a trascendere, a far morire l'io e il mio. E a quel punto la vita assume tutto un altro significato. Cito qui un libro che mi è piaciuto tantissimo di una cara amica, si chiama Raffaella Arrobbio, qui di Torino tra l'altro buddista e in un suo libro Gesù e il Buddha in dialogo, ecco, un libro preziosissimo. Vi cito quello che scrive chi al termine della battaglia interiore ha rinunciato a quel se stesso che gli era tanto caro, a quella visione illusoria in cui il mondo è là per prenderne i piaceri senza curarsi d'altro, a quella visione egocentrica di una relazione con il mondo in cui si fa guerra a chiunque si interponga al proprio desiderio di soddisfazione egoica, chi rinuncia a tutto questo realizza la dimensione pura, nata d'attaccamento rifiuto in cui si vedrà Dio in ogni persona e in tutto l'universo in cui si realizzerà l'unità al di là di tutti gli opposti ecco imparare a stare significa cessare di commentare di commentare quello che ci capita è giusto è sbagliato è bene è male doveva non doveva perché a me perché non a me tutto questo mentale è ciò che ci provoca tanta tanta sofferenza quindi la vita ha sempre ragione la vita sa ciò che è bene la vita e io mi convinco sempre di più che la vita per come si dipana è il divino che cos'è Dio chi è Dio se non la vita quindi stare significa direbbe Arnaud de Gervais un grande personaggio incredibile che si è mosso a metà del novecento dice qual è la volontà di Dio è la vita è la vita non c'è separazione quindi imparare a stare imparare a stare ad accogliere a vivere in profondità in qualche modo avere fede in Dio significa avere fede nella vita perché la vita sa dove portarti il problema è che ci mettiamo di traverso perché noi sappiamo crediamo di sapere invece qual è il bene per noi dovrebbe essere la vita perché possa essere feconda per la nostra vita per la nostra felicità Chiara Scardicchio che conosci bene dice nel suo ultimo libro appena uscito la vita ha un'altra partitura la vita ha un'altra partitura il problema è che non sappiamo suonarla suoniamo un'altra la nostra partitura ecco perché è importante infrangere per quanto è possibile l'io i propri desideri le proprie aspettative i propri pregiudizi i propri giudizi no tutta questa roba qui fa deviare la vita in qualche modo ma la vita accade e ha sempre una ragione per scoprire poi magari che il fallimento il perdere il morire anche il male anche la tragedia dell'esistenza ci avrebbe potuto apportare un bene che noi abbiamo colto perché eravamo altrove guardate questo non è quando io faccio questo discorso in molti ambienti allora questo è fatalismo non è fatalismo capite non è vuol dire vivere quello che è perché tanto è accaduto è accaduto poi cominci a agire anche ovviamente ti viene una malattia cominci capisci ma intanto l'accogli con tutta la sua portata e magari dopo quante persone che hanno vissuto anche il male una tragedia un incidente o anche soltanto un imprevisto hanno potuto constatare che ciò che è derivato loro è infinitamente più grande e magari salvifico rispetto a quello che loro avevano previsto la questione stare significa attraversare stare significa attraversare stare significa stare con tutto se stessi dinnanzi e dentro la potenzialità di quello che accade tutti i miti ci dicono questo tutti i miti tutte le tradizioni religiose spirituali quindi ecco imparare a stare credo che significhi anche non far coincidere la felicità con i nostri desideri perché per noi felicità significa coincidenza tra quello che avevamo previsto e quello che accade ma la vita nel 99% non accade come avevamo prevista quindi siamo fuori alla felicità non è vero se noi accogliamo tutto e stiamo e attraversiamo faremo esperienza non della felicità è vero della beatitudine nel Vangelo beatitudine è proprio questo la beatitudine è godere di ciò che la vita apporta al di là del nostro mentale delle nostre previsioni desideri aspettative giudizi questa è la beatitudine tra l'altro mentre dicevi queste cose mi veniva in mente un'altra frase molto bella di Kafka che evidentemente è un maestro di meditazione a questo punto perché lui diceva nella lotta tra te e il mondo cerca di assecondare il mondo molto bella me l'ha fatta risuonare quello che tu dicevi anche rispetto al fatalismo o non fatalismo qui Kafka parla della lotta tra te e il mondo per cui una lotta c'è sempre quindi altro che fatalismo non è accettazione semplicemente in questo tuo combattere devi cercare di non stare dalla parte di te stesso però slittare un po' fare un passo al lato e stare un po' anche dalla parte del mondo perché abbia potenzialità di accadimento citando ancora Chandra forse nel libro quello che ha scritto dopo la pandemia forse non in silenzio cosa viva ma ogni sì il secondo lei scrive durante lei contestava giustamente quel mantra che era si gridava fuori dal balcone vi ricordate nel primo lockdown andrà tutto bene guardate non c'è come postura mentale ed esistenziale penso che non ci sia cosa peggiore che dire andrà tutto bene lei diceva durante quei giorni in quei mesi in realtà la mia il mio mantra era B Chandra dice B cioè stare accogliere vivere fino in fondo e e qui si inserisce l'altro passaggio di cafe l'altro passaggio però prima volevo chiederti se tu Don Paolo tu ci riesci nella lotta tra te e il mondo a metterti dalla parte del mondo guarda io la cosa che sto acquisendo le cose che ho scritto in questo libro che dico adesso è veramente è un tema a me molto caro non perché lo stia vivendo ma perché intuisco che ci sia una verità grande qua dentro una grande verità è quella cosa che che pian piano cerco di vivere ogni giorno e e non commentare e non commentare gli accadimenti non commentare non giudicare non appiccicare etichette ecco a quello che capita anche delle più piccole cose no e rimanere aperto in qualche modo sapendo o comunque credendo un atto di fede che quello che arriverà che è infinitamente altro da quello che io mi aspettavo mi apporterà comunque qualcosa che sarà bene per la mia vita ecco questo questo sì questo lo scopro ecco scopro che che pian piano lo sto lo sto vivendo quello di non di non giudicare di non di non commentare mi viene sempre in mente racconto questa perché può essere è curioso è una parabola dell'estremo oriente che lo si trova in tante versioni ve la racconto come l'ho letta da qualche parte un contadino cinese molto povero aveva soltanto due ricchezze il proprio cavallo e il figlio per il resto era veramente viveva nella povertà più assoluta e un giorno perde il cavallo scappa il cavallo non lo trova più e tutto il villaggio va da questo contadino a dire ma che tragedia che ti è successo veramente un male il cavallo che ti scappa e lui dice uomo saggio che non commenta dice e chi lo dice che è una tragedia è successo io sto con quello che è successo poi dopo una settimana torna una mandria di cavalli cioè torna a casa quel cavallo con tutta una mandria e tutto il villaggio oh che che gioia che felicità che benedizione non è successo e lui dice chi l'ha detto che è una benedizione è successo dopo un po' il figlio che cerca di addomesticare questi cavalli cade si rompe una gamba e tutto il villaggio oh il figlio con la gamba rotta che tragedia e lui dice chi l'ha detto che è una tragedia io sto scoppia una guerra nell'impero devono andare in guerra tutti i figli abili ma il figlio non può andare perché la gamba rotta e tutto il villaggio dice oh che benedizione si è successo tuo figlio non va in guerra e avanti così capite ecco il non giudizio il non commentare rimane aperte ecco nel suo cammino di spoliazione adesso Kafka fa un passaggio ulteriore perché qua eravamo a rimani al tuo tavolo e ascolta quindi ancora un'apertura diciamo di sensi ancora i sensi accesi per cogliere qualche cosa e il passaggio successivo che lui fa invece è questo non ascoltare neppure non è più rilevante ascoltare quello che ti devi limitare a fare è aspettare aspetta soltanto ecco la meditazione è una fiduciosa attesa sì la meditazione insegna o comunque è quell'ambiente quella dimensione dell'essere per cui si è in cui si aspetta si aspetta non ciò che abbiamo desiderato essere bene per noi ma ciò che è bene per noi che è diverso è il discorso di prima Simone Veil lo cito nel libro questa donna altra donna gigante Simone Veil chiama questo un'attesa senza oggetto bellissimo attendere senza l'oggetto dell'attesa stare e attendere il miracolo si compie nel libro cito e viene ripresa anche in quarta di copertina molto riassunta nel libro è un pensiero tratto da un suo libro di un personaggio che so che è divisivo so che ogni volta che lo cito crea un sacco di problemi ecco però lo cito perché tanto c'è scritto ecco lui si chiama Osho può piacere o non piacere va bene secondo me ecco in alcuni passaggi di Osho trovo una grande verità quindi io prendo quello che che può servire alla mia fecondità umana ecco Osho scrive un passaggio molto molto bello proprio riguardo nel stare ed aspettare stare e attendere stare e stare aperti ecco senza giudizio scrive non occorre che tu faccia nulla il divino ti ha già dato tutto quello che può essere dato non sei stato messo al mondo come un pezzente ma come un imperatore guardati dentro non andare da nessuna parte non desiderare non pensare al futuro non pensare al passato resta qui ora e improvvisamente ecco la meta è sempre stata lì e ti viene da ridere la meta era già lì stai inutilmente correndo di qua di là finché a un certo punto stanco torni a casa una tazza di tè è esattamente quello che ci vuole la ricerca affannosa produce il fumo che circonda la fiamma il correre disperatamente in cerchio solleva la polvere che nasconde la meta il tuo sforzo solleva polvere fa fumo fa fumo nasconde la fiamma riposati un po' lascia che il fumo cosa scopri cosa scopri alla fine di tutto ciò che era sempre stato lì capite non dobbiamo cercare nulla se non lo cerchi lo trovi il titolo se non lo cerchi l'essenza il vero sé eccard lo chiama lo trovi se non lo cerchi se non ti affanni se non corri se non ecco la meditazione è tutto un non nella meditazione non si fa non c'è nulla di più semplice che la meditazione perché non ti viene chiesto nulla non di pensare non di progettare non di immaginare non di crearti pensieri ma neanche di pregare io dico sempre che la meditazione è una forma di preghiera ma che non usa preghiere anzi una preghiera atea perché non invochi neanche un dio perché invocare sarebbe già fare qualcosa quando tutto crolla quando tutto si deposita quando tutto si calma finalmente l'essenza la fiamma la luce appare è sempre stato lì ma il nostro correre il nostro affannarci il nostro pensare di creava soltanto il fumo che nascondeva la fiamma e quando scopri questo ti viene da ridere perché? perché è la cosa più semplice che potevi fare cioè non fare ma noi occidentali questa cosa per noi è assurdo perché se non facciamo pensiamo non può accadere nulla ma questo magari lo riprendiamo dopo ecco ma allora aspetta non ciò che tu avevi previsto non ciò che tu attendevi non ciò che tu 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 aspetta attendi apriti e non arriverà qualcosa ma scoprirai che è sempre stato lì se non lo cerchi lo trovi ecco la parte successiva invece io la trovo di una potenza incandescente perché mette l'accento su due elementi che un po' ci spaventano e ci sgomentano anzi rispetto ai quali forse abbiamo un'attitudine abbastanza ambigua e contraddittoria perché si tratta del non aspettare neppure e restare in perfetto silenzio e solitudine silenzio e solitudine sono appunto due termini due dimensioni che alle quali a volte aneliamo le desideriamo perché ci sembrano difficili da raggiungere nel contesto in cui siamo di contro però ci creano un grande spaesamento un grande sgomento il silenzio spaventa molto la solitudine spesso la scambiamo per isolamento nel momento in cui siamo soli ci sentiamo abbandonati questo mi sembra un altro insegnamento importante un'altra cosa molto importante che possiamo apprendere dalla meditazione cioè a ricalibrare le nostre anche l'utilizzo di alcune parole sulle quali noi abbiamo proiettato delle ombre anche un po' oscure forse la meditazione ci può anche aiutare a togliere questi eccessivi strati di incrostazione di pensiero tu l'hai già detto quanto la meditazione può aiutarci a purificare un po' il nostro modo di guardare al mondo però credo che rispetto al tema del silenzio e della solitudine in particolare ce ne sia una grande urgenza sì nel libro cito un altro autore incredibile nella tradizione cristiana si chiama Giovanni Vannucci che negli ultimi anni della sua vita si è accostato a tutta la tradizione orientale ormai pregava soltanto più contesti di tradizione orientale e questo li ha creato li ha causato in realtà un sacco di problemi siamo ancora in un'epoca molto molto difficile nel cattolicesimo ecco a metà del secolo scorso comunque Vannucci definisce il silenzio così il silenzio è quello spazio in cui Dio non è più invocato ma presente bellissimo il silenzio è quello spazio quella dimensione in cui Dio non è più invocato ma è presente occhio non dobbiamo fare silenzio il silenzio è già fatto dobbiamo soltanto vivere il silenzio ovvero diventare silenziosi cioè tacere non è ancora fare silenzio stasera adesso in sala c'è silenzio apparentemente ma io non sono certo che ci sia silenzio in questa sala diventare silenziosi è tutta un'altra cosa diventare silenziosi significa tacitare i pensieri tacitare le immagini tacitare i desideri tacitare le attese gli aspettativi i giudizi i commenti tutto quello che abbiamo detto prima ecco che si diventa silenziosi altrimenti un muto sarebbe un uomo silenzioso visto che taccia ecco imparare il silenzio a diventare silenziosi è la condizio sine qua non perché la fiamma di prima l'essenza la presenza possa darsi cioè la meditazione è pratica silenziosa non perché invoca un dio ma perché fa esperienza del divino del mistero potremmo parafrasare la frase di vannucce e dire che la mistica ecco perché è un altro tema su cui insisto tantissimo la mistica io credo veramente che il futuro sarà deve essere mistico lo diceva già Panikar e poi Runner il ventunesimo secolo o sarà dei mistici o non sarà cioè la mistica è fare esperienza della propria essenza della propria vera natura del proprio vero sé e lì fare esperienza contemporaneamente del mistero cioè la mistica è la pratica la pratica è la dimensione in cui ci si scopre divini divini o spirito ognuno lo chiami come vuole ecco capite non abbiamo bisogno di invocare un dio o di metterci in contatto con un dio lassù nei cieli io l'ho abbandonato da un po' di tempo per me quel dio lì è morto come diceva Nietzsche io ho bisogno di fare esperienza del mio essere divino che è un'altra cosa il silenzio è proprio questo il silenzio è fare esperienza del proprio vero sé ma cosa deve crollare prima l'io il mio l'attaccamento alle immagini le aspettative i desideri all'idea stessa di dio ecco il primo grande silenzio che dovremmo vivere è nei confronti di dio fare silenzio su dio è fondamentale altrimenti partoriamo soltanto idoli finché diamo un nome a dio e dio è già un nome in realtà quindi finché diamo un nome al mistero all'indicibile finché diciamo l'indicibile noi siamo ci spostiamo immediatamente nel campo dell'idolo dell'idolo quindi non fare ecco fare silenzio anche su dio dire chi è dio cos'è dio perché è dio tutta sta roba qui c'è molta della teologia occidentale è fallimentare è già una bestemmia perché quello sicuramente non è dio dice Agostino quando ti fai un'immagine di dio quello non è più dio ecco allora fare silenzio o meglio diventare silenziose e non fare silenzio perché è già fatto quindi diventare silenziose vuol dire veramente tacitare tutto il nostro mondo interiore e sperimentarsi manifestazione epifania del divino ecco dico qualcosa martin buber dice nel cammino dell'uomo quando l'uomo riposa in sé come nel nulla non è limitato da altro ed è sconfinato e dio versa in lui la sua gloria ecco la meditazione credo che sia quel momento quel momento in cui è un momento mistico per me la meditazione è un momento mistico in cui dio non è più invocato ma è esperito è un momento in cui faccio esperienza di essere manifestazione del divino ecco per me la meditazione è questa forse è un momento di intuizione questo è un momento di illuminazione è un momento per me di salvezza è un momento di salvazione questo è un momento però ci sono questi momenti in cui ti senti parte dell'uno ti senti parte dell'uno ed è impressionante che questa esperienza dell'essere uno la stanno facendo i grandi scienziati non so se qualcuno ha accostato i testi di Faggin Federico Faggin se ne sta parlando tanto è un grande scienziato inventore del touch del touch screen dei microprocessori e lui sta parlando di mistica sta tenendo eravamo qui c'era qualcuno che era presente con me a Prato in Toscana lui sta facendo un'esperienza mistica ha fatto un'esperienza mistica e la sta portando in giro adesso grande scienziato agnostico penso che non sia credente ma non vuol dire niente capite la meditazione non è dei credenti fare esperienza del divino scusate del mistero del sé non bisogna essere neanche credenti essere credenti è ancora una questione di testa di intelletto credere a qualcosa credere in qualcuno ecco credo che il silenzio ti porti lì e come hai detto bene tu c'è bisogno anche di tanta solitudine solitudine la solitudine è il grembo è il grembo del nulla da cui può scaturire il tutto la solitudine non è mera non è solipsismo non è isolamento oggi si sta morendo di isolamento non di solitudine non siamo isole solitudine significa fare esperienza del nulla quindi perché vivi questo distacco da vivi il distacco vivi il silenzio lo vivi ti percepisci parte del mistero e da questo mistero tutto può scaturire Leonardo Boff in un libro bellissimo sullo spirito dice che il nulla è un oceano di energia il nulla è un campo di potenzialità il nulla è un campo di potenzialità non c'è nulla di più fecondo che il nulla ma noi abbiamo paura di viverlo e continuiamo a riempirci pensiamo che la vita sia a riempirci di tutto di tutti di sicurezza di nomi professioni titoli oggetti ma lì non c'è possibilità che fiorisca nulla perché soffochiamo tutto soffochiamo tutto quindi silenzio e solitudine sono veramente le condizioni perché possa sorgere qualcosa ecco e l'aforisma si conclude così mostrandoci che cosa può sorgere quando pratichi questo tipo di posture quindi l'avere ascoltato ma poi essere passato dall'ascoltare all'aspettare poi scegliere di non aspettare nemmeno dedicarsi consegnarsi al perfetto silenzio la perfetta solitudine affinché possa accadere questo affinché sia il mondo che si offre a noi perché perché noi lo si possa smascherare ed è interessante Paolo il fatto che Kafka dica non ne può fare a meno come se fosse una necessaria effusione perché dove si crea il vuoto qualcosa deve fondersi sì mi rifaccio ancora a Simon Veil Simon Veil che è una grande mistica una grande mistica scrive è necessario farsi una rappresentazione del mondo in cui ci sia del vuoto perché il mondo abbia bisogno di Dio amare la verità significa sopportare il vuoto e quindi accettare la morte la verità sta dalla parte della morte l'uomo l'uomo sfugge alle leggi di questo mondo solo per la durata di un attimo istanti di sosta di contemplazione di intuizione pura di vuoto mentale di accettazione del vuoto morale sono questi istanti a renderci capaci di sovranaturale chi sopporta per un momento il vuoto o riceve il pane sovranaturale o cade terribile rischio è vero ma è necessario nel mio diventare nulla Dio ama se stesso in questo nulla ama il vuoto l'attaccamento alle cose mi fa vedere le cose in un certo modo un modo distorto che è illusione guardate questa frase è potentissima vivere il vuoto o il nulla vivere questa dimensione di stacco dall'ego dal mio delle aspettative tutto quello che vi ho detto prima è una morte è una morte ma non c'è vita se non attraverso questo tipo di morte Goethe diceva muori e diventa muori e trasformati ma Gesù quante volte chiedeva di vivere l'aspetto della morte non è masochismo questo è perché possa sorgere qualcosa se il chicco di grano caduto in terra non muore non può portare frutto o in altro passo Gesù dice chi non odia la propria vita è avanti così odiare vuol dire distaccarsi da tutto quello che pensiamo essere essenziale per la vita ma non lo è è tutta illusione tutto è fumo tutto è vapore direbbe Coelet tutto è vanità poi tradotto malissimo comunque chi ama la propria vita la perde allora è veramente quando esperiamo la nostra vita come vuoto come morte come frantumazione dell'ego come frantumazione dell'io è vero che è una morte ma finalmente può affermarsi qualcosa può nascere qualcosa semplicemente appare quella fiamma che è sempre stata lì proprio oggi leggevo un passo di Edith Stein altra donna incredibile no? filosofa soprattutto filosofa carmelitana morta anche lei in campo di sterminio come Etihilesum la Stein scrive solo chi si reputa da nulla chi non rinviene in sé più nulla che valga la pena difendere e far valere solo in quegli vi è posto per lo sconfinato operare di Dio vi cito questa frase molto bella di un libro che abbiamo letto sicuramente tutto almeno è un classico dell'epoca adolescenziale Hermaness Siddhartha una meta si proponeva a Siddhartha diventare vuoto vuoto di sete vuoto di desideri vuoto di sogni vuoto di gioia e vuoto di dolore morire a se stesso non essere più lui trovare la pace del cuore svuotato nella spersonalizzazione del pensiero rimanere aperto al miracolo questa era la sua meta se muori rimani aperto al miracolo alla meraviglia muori e qualcosa si compie rinuncia a te stesso rinnega a se stesso beati poveri in spirito cosa vuol beati non felice beati la beatitudine la sperimenterai quando in questa dimensione dello spirito diventi povero cioè ti stacchi ti stacchi in occidente abbiamo il grande poeta Giovanni della Croce in quell'inno bellissimo che è all'inizio della salita al monte Carmelo quando dice per poter gustare il tutto non cercare il gusto in nulla per poter conoscere il tutto non voler saper nulla per poter possedere il tutto non voler possedere nulla per poter essere tutto non voler essere nulla e io credo che qui si inserisca quello che la tradizione cattolica passa come dogma ma che è un mito ma le due cose non si escludono che è il mito della verginità di Maria che cos'è la verginità a livello mitologico che poi noi abbiamo insultato facendone soltanto un aspetto meramente sessuale ma il mito della verginità è proprio questo il non non conosco uomo non ho fatto questo non agito così eppure lì in quel vuoto in quel puro nulla in questo distacco dall'ego ecco il miracolo nella morte dell'ego del distacco lontano dall'appropriazione dell'io dal mio ecco il miracolo della presenza della presenza ecco credo che Kafka ci abbia condotto fino a questo punto ecco il suo breve aforisma ma potentissimo senti volevo domandarti perché secondo te la chiesa è così diffidente nei confronti della della meditazione che peraltro affonda nella tradizione perché tu hai citato l'esichia hai citato i padri del deserto lo stesso Giovanni della croce sarebbe una sarebbe una grande ricchezza alla quale attingere come mai invece pensa che ancora io incontro quando faccio delle conferenze delle incontri delle persone che mi dicono ma ultimamente mi è successo sarà un mese fa da qualche parte una signora si avvicina dicendo il mio parroco mi ha proibito ha saputo che facevo yoga e me l'ha proibito io lì non ci ho più visto ecco poverino lei non ne poteva niente ecco ma tanto per dirti a che punto siamo ancora oggi ma beh tolto questo Guidalberto Bormolini grande saggio monaco ha scritto un bellissimo libro sulla meditazione in realtà proprio uno studio sulla meditazione proprio un percorso molto complesso lui citando proprio le fonti dice che i primi padri nella patristica delle origini ci sono donne uomini che praticavano yoga perché sono entrati in contatto con i saggi dell'estremo oriente dell'oriente quindi la meditazione John Mayne a cui dedico la seconda parte del libro John Mayne impara questo è curioso John Mayne impara a meditare per caso abbiamo detto perché chiede tutte le mattine vede uno a stare in silenzio seduto diceva posso fare anche io questo e questo swami indiano dice sediti e medita devi solo fare questo ti siedi e mediti vabbè quindi poi pian piano lo swami lo apre lo inizia un po' la meditazione anche come tradizione poi torna John Mayne si fa si fa monaco benedettino torna a Londra si fa monaco poi i suoi superiori gli impediscono di praticare la meditazione che ha imparato in oriente perché dice che quella non va bene e quindi lui obbedisce quindi per alcuni anni smette di fare meditazione poi diventa monaco e comincia a meditare di nuovo e scopre che un santo della tradizione cattolica cristiano-cattolica e anche ortodossa che si chiama Giovanni Cassiano quarto secolo legge le conferenze di Cassiano soprattutto la nona la decima conferenza che teneva i monaci scopre che nel quarto secolo Cassiano diceva ai monaci tutto quello che lui aveva imparato dallo swami cambiando i termini ovviamente ma io queste cose le ho sentite dallo swami in Malesia cioè ma e l'inizio del cristianesimo c'erano tutte ripetizioni di un solo versetto di un salmo quello era il mantra la postura l'immobilità tutta questa il silenzio interiore tutta questa roba qui circolava già nei primi padri e adesso noi abbiamo ancora personaggi all'interno della chiesa cattolica che diventano si arrabbiano proprio perché sentono parlare di meditazione perché una cosa è l'ignoranza proprio ignorare le proprie tradizioni ma capisci Armando quale cosa c'è sotto se tu quando mediti fai esperienza del divino il silenzio non è più il silenzio è quella dimensione in cui Dio non è più invocato ma è sperito cioè se io mi sento faccio o meglio più che sentire nella meditazione faccio esperienza di essere Dio diciamola così la mediazione dove va a finire crolla tutto capisci la chiesa la chiesa ufficiale ha bisogno ancora di essere mediatrice vuoi entrare in contatto con Dio ci penso io devi passare attraverso di me è ancora sempre un abuso di potere e sta cosa qui la chiesa prima di togliersela di dosso ci vorranno secoli secoli è un esercizio di potere dire vuoi collogare vuoi entrare in contatto con il mistero devi passare attraverso di me quindi tutto quello che è mistica perché i mistici sono sempre stati ostacolati da tutti non solo da cristianesimo il più grande mistico islamico in epoca del sufismo in epoca medievale è stato crocifisso quando ha detto io sono Allah il mistico arriverà a dire nel chiesianesimo io sono Dio come Gesù dice chi vede me vede il padre questo è lì che la mistica ti fa fare che ti vuole portare e la meditazione ti fa fare esperienza ma questa cosa non può essere accettata in molti nostri ambienti ecco perché la mistica è sempre stata ostacolata ecco è sempre stata messa a tacere è sempre stata molto di nicchia in qualche modo nei grandi mistici abbiamo bruciato una mistica nel 1300 Margherita Porretti è stata bruciata dall'inquisizione cattolica in una piazza di Parigi quando nel suo capolavoro arriva a dire questo che non c'è più bisogno di mediazione perché ognuno può vivere l'essere divini ognuno beh dopo questa cosa l'hanno messa l'hanno bruciata viva viva tanto per dirti ecco perché chissà quanto ci vorrà anche chissà quanto ti arrostiranno Paolo ci sono pire pire già pronte pronte da per sé e vabbè in qualche modo per l'esercizare Grazie a tutti.